Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle in lutto per la prematura scomparsa di Filippo Mondelli, 26 anni, stroncato da un osteosarcoma alla gamba sinistra, una malattia diagnosticata poco più di un anno fa. Campione, guerriero e ragazzo d'oro, così è stato definito. Anche nella malattia le sue qualità sono emerse, tanto da far sperare più volte che presto sarebbe tornato in barca con i suoi compagni. Invece, il 26enne delle Fiamme Gialle si è spento ieri pomeriggio a Moltrasio, nel Comasco. Giusto tre anni fa l'ingresso nelle Fiamme Gialle e pochi mesi dopo la conquista Plovdiv della medaglia d'oro nel 4 di coppia senior e il titolo di campione del mondo, fino a staccare il pass per i giochi olimpici di Tokyo, conquistando il bronzo mondiale sempre in 4 di coppia. Invece, a gennaio dello scorso anno è stato costretto a fermarsi e nonostante la sua battaglia a viso aperto, non ce l'ha fatta. Lo ricordano commossi i suoi compagni d'avventura, così come Alessio Sartori, pluridecorato delle Fiamme Gialle e attuale assessore allo sport, del Comune di Sabaudia. Lo ricordano commossi i suoi compagni d'avventura, in particolare gli azzurri che hanno vinto l'Europeo di Varese l'undici opere scorso, una medaglia a lui dedicata. E lo ricorda Alessio Sartori, pluridecorato delle Fiamme Gialle e attuale assessore allo sport del Comune di Sabaudia. Zio Filippo, così lo chiamavano gli amici, ha lasciato un segno che resterà per sempre indelebile nei cuori di tutti quelli che li hanno voluto bene e lo ricorderanno come il gigante buono. I dirigenti, i tecnici e gli atleti delle Fiamme Gialle si stringono in un affettoso abbraccio alla sua famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze.